Chi può interessare? C'ho qua un bel tonto a*****o perfettamente funzionante con tutta la cavetteria. Se vuoi venirmi a trovare te lo faccio vedere e barattiamo con uno o due. Che dici? Lo vedi, dai, ti richiamo io. Noi abbiamo un affare da proporti. Abbiamo una bella macchina fotografica. Sì, sì, ho capito. Domani veniamo a prendere la macchina fotografica e paghiamo. Tu stasera puoi dare qualcosa per noi? Allora, vieni qua a Cesano Modello. Dove? Alla stazione dove ci siamo visti con un c***o? Bravo. Pronto. Ciao, sono un c***o. Per stasera? Mi riesci a portare due fusti di birra? Va bene, dai. Mi chiamo stasera Sico Mario, verso le otto e mezzo nove. Ok, dai. Io sono qua con un mio amico. La prendo, se ci fai regalino, la piglia subito lui. Sì, ma il regalino ce l'ho detto domani perché stasera non riesco. Io lo sai che vengo sempre da te, però mi c***o anche a me, aiutami anche a me. Io ti faccio lavorare, ho visto che ti faccio lavorare. Mi fai così, vieni, vieni, dai. Beh, ok, ciao. Aspettami qua, ma l'hai cambiata? Quella ieri sera era molto diversa. Tipo? Tipo che era colla. Quando sei quello che faccio io, diventa colla. Come mai? L'hai cambiata? Io sono qua al barbaccio. Ti vieni, però mi devi dare cosa giusta, eh. Vieni nella via, vieni nella via, subito, subito. Sono già qua, subito, dai. Ah, sì, 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 sto arrivando subito. Dai, ciao, 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 ciao. 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 Ciao, ciao.